ciao ragazzi e ben ritrovati nuovo video di fisica sugli errori e sulle incertezze qui abbiamo determinato la massa di una pallina di polistirolo mediante bilancia sei misurazioni con questi valori dobbiamo calcolare il valore attendibile e l'errore assoluto determiniamo il valore attendibile facendo la media aritmetica sommiamo i sei valori e dividiamo per sei attenzione alle cifre significative abbiamo una sola cifra decimale stiamo facendo una somma perciò otterremo un risultato che dovrà avere una cifra decimale abbiamo 7,5 grammi dividiamo per sei a questo punto calcoliamo l'errore assoluto lo facciamo con la semidispersione prendiamo il valore più alto 5 grammi togliamo il valore più basso 1,1 grammi e dividiamo per due otteniamo 0,4 diviso 2 ovvero 0,2 grammi possiamo ipotizzare dai dati che la sensibilità dello strumento è il decimo di grammo perciò noi possiamo considerare che la sensibilità è 0,1 grammi se otteniamo un errore assoluto maggiore della sensibilità dello strumento lo otteniamo come in questo caso altrimenti dovremmo utilizzare questo come errore assoluto esprimiamo in definitiva la nostra misura come 1,3 più o meno 0,2 grammi se tutto vi è chiaro provate a fare voi questo problema dopodiché guardate la risoluzione bene abbiamo 5 misure questa volta notiamo che la bilancia è sensibile al centesimo di grammo per scrivere la misura intanto calcoliamo il valore attendibile di m e lo faremo andando a sommare i 5 valori dividendo poi tutto per 5 otteniamo 1,19 grammi per l'errore assoluto faremo quindi il valore massimo meno il valore minimo diviso 2 attenzione perché l'errore assoluto che abbiamo determinato con la semidispersione è minore della sensibilità dello strumento che è 0,01 grammi perciò la nostra misura dovremmo esprimerla in questo modo 1,19 più o meno 0,01 grammi non possiamo scendere al di sotto della sensibilità dello strumento un ricercatore misura la massa di mezzo litro d'aria ottenendo 0,62 più o meno 0,03 grammi determina l'errore relativo e l'errore percentuale esercizio molto semplice perché l'errore relativo è dato dall'errore assoluto che è indicato qui quindi è 0,03 grammi diviso il valore della misura quindi 0,62 grammi otteniamo 0,048 usando una cifra sola significativa otteniamo 0,05 che scritto in percentuale corrisponde al 5 per cento scrivi correttamente la misura del perimetro di un triangolo isoscele la cui base misura 12,8 più o meno 0,1 centimetri e i cui lati uguali misurano 25,3 più o meno 0,1 centimetri sappiamo che per misurare il perimetro di un triangolo basta sommare le misure dei lati cioè dobbiamo fare 12,8 più 25,3 più 25,3 perché questi sono i due lati che hanno la stessa misura 8 più 3 11 più 3 14 2 più 5 7 più 5 12 più 1 fa 13 2 più 2 4 più 1 5 più 1 6 63,4 centimetri non abbiamo problemi di decimali perché tutte e tre le misure hanno una sola cifra decimale quindi nella somma manteniamo una sola cifra decimale però ogni misura è affetta da un errore e qui abbiamo gli errori assoluti quando eseguiamo una somma dobbiamo sommare anche gli errori assoluti perciò qui abbiamo 0,1 per questa misura 0,1 per questa 0,1 per questa li sommiamo e otteniamo un errore assoluto di 0,3 centimetri il perimetro del triangolo sarà quindi 63,4 più o meno 0,3 e questi sono centimetri come vedete stiamo lavorando con le operazioni sulle incertezze qui dobbiamo calcolare l'area di un foglio di carta 4 date queste misure sappiamo che un rettangolo perciò l'area sarà data dal prodotto di a per b moltiplichiamo 21 per 29,7 e otteniamo 623,7 centimetri quadrati calcoliamo allora l'errore relativo sull'area che è dato dalla somma dell'errore relativo per il lato a più l'errore relativo per il lato b ovvero 0,1 diviso 21 per quanto riguarda la misura del primo lato più 0,1 diviso 29,7 non ho scritto le unità di misura si semplificano quindi abbiamo dei numeri puri quanto fa questo risultato l'errore assoluto sarà dato da questo valore per il valore dell'area calcolata viene 5,07 ma noi dobbiamo usare per gli errori una cifra significativa perciò scriveremo 5 centimetri quadrati ora siamo pronti per esprimere la nostra misura 624 più o meno 5 centimetri quadrati la pallina da ping pong regolamentare deve essere sferica con un diametro di 40 più o meno 0,1 millimetri e deve avere una massa di 2,7 più o meno 0,1 grammi quale deve essere la densità del celluloide materiale con cui è fatta la pallina per poter essere adoperato nella costruzione di palline da ping pong visto che ho la massa in grammi vorrei esprimere il volume in centimetri cubi per arrivare al volume io qui ho il diametro e lo trasformo in centimetri quindi il diametro era 40 più o meno 0,1 millimetri per ottenere i centimetri basta dividere per 10 e otteniamo 4,00 più o meno 0,01 e questi sono centimetri ho scritto di maiuscolo per il diametro per non confondermi con la densità la densità infatti è massa fratto volume la massa noi la abbiamo il volume lo determiniamo in che modo dal momento che la pallina è una sfera il volume della sfera è 4 terzi pi greco r al cubo in questo caso abbiamo il diametro il raggio è la metà del diametro quindi abbiamo questa scrittura ora il 2 qui sotto diventa 8 perché è elevato alla terza quindi abbiamo di al cubo fratto 8 semplificando otteniamo pi greco fratto 6 diametro al cubo per quanto riguarda gli errori relativi vi faccio notare una cosa che l'errore relativo della densità che poi io dovrò calcolare sarà dato dall'errore relativo della massa più l'errore relativo del volume perché io devo fare massa su volume quindi si sommano gli errori relativi vedete noi possiamo determinare l'errore relativo del diametro non del volume direttamente come lo determiniamo quello del volume e noi abbiamo qui una costante numerica questa e poi abbiamo il diametro al cubo quindi noi dobbiamo moltiplicare per tre l'errore relativo del volume perché noi è come se facessimo diametro per diametro per diametro così facendo noi sommiamo tre volte gli errori relativi del diametro che corrisponde a moltiplicare per tre l'errore relativo del diametro quindi questo sarà l'errore relativo della massa più tre volte l'errore relativo del diametro qui si vede male c'è scritto erd errore relativo densità che dobbiamo utilizzare moltiplicandolo per il valore della densità per ottenere l'errore assoluto della densità chiamiamolo ea errore assoluto la densità è uguale a massa diviso volume ho già scritto qui la formula che mi dà il volume non lo calcolo prima per non introdurmi a rotondamenti perciò faccio massa che è 2,7 grammi diviso questo calcolo in centimetri cubi questo è 4 alla terza che fa 64 otteniamo questo valore sul quale dobbiamo ancora ragionare però intanto calcoliamoci l'errore assoluto andiamo a fare l'errore relativo per d che vuol dire errore relativo era l'errore relativo sulla massa più l'errore relativo sul diametro tre volte quindi 0,01 diviso 4 stiamo lavorando sui centimetri questa volta tutto questo deve essere moltiplicato per il valore di densità che abbiamo determinato noi esprimiamo questo valore con una cifra significativa quindi abbiamo 0,004 grammi su centimetri cubi per quanto riguarda la densità noi dobbiamo scrivere due cifre significative perché il diametro ne ha tre ma la massa ne ha due quindi questo dovrà essere poi scritto come 0,081 grammi su centimetro cubo perché qui il 6 è maggiore di 5 quindi lo 0 diventa 1 possiamo scrivere che la densità è uguale a 0,081 più o meno 0,004 e questi sono grammi su centimetro cubo bene ragazzi vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi al canale attivando le notifiche così saprete quando usciranno i nuovi video spero che questo video vi sia stato utile condividete anche l'esistenza del canale io vi ringrazio e alla prossima ciao